Oggi proveremo 10 nuovi mob segreti che non avete mai visto su Minecraft Siamo pronti ragazzi! Io, sì, mi raccomando dobbiamo superare i 6.000 mi piace Perché appunto questi nuovi mob sono super pericolosi Saluto, Ricky, Barbare e Daniele Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere saluti nel mio video Se siete nuovi iscrivetevi al canale col tastiero qua sotto E attivate la campanella su tutte quante le notifiche E superiamo i 7.000 mi piace per un nuovo video su Minecraft Quindi oggi mi sa che rischeremo di fare una brutta fine all'interno del video Comunque ragazzi bentornati perché qua Minecraft ci propone nuovi mob Che ancora non abbiamo mai analizzato, mai visto assieme E li abbiamo tutti quanti all'interno di questa chest Zero crafting oggi Oggi noi dobbiamo soltanto prenderli e spawnarli e distruggere il mondo Non so neanche da quale chest partire ragazzi Perché sono talmente tante chest, talmente tanti mob Che io non so manco cosa sfidare ragazzi Non abbiamo neanche un'armatura Partirei da questo warlock Che è un nostro amico Oh fermati Ma è matto questo Bro ma allora ragazzi Cos'è sembra un villager Mi sa che ho preso subito uno di quelli più potenti Ma a me sembra uno di quei villager Che evoca robe Ma non solo Perché questo qui ha praticamente uno scettro di diamante in mano Che mi ha tolto tre cuori prima Allora per testare Meron Bob Dobbiamo vedere anche quanto danno fa Quindi facciamoci colpire Da questo nostro amico warlock Ferma No 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 ma voi siete matti ragazzi Tre cuori e mezzo Mi toglie anche gli oggetti dalla mano Ehi datti una calmata Ma a vita infinita Il nostro amico Ragazzi Stai evocando anche qualcosa Sembra che faccia anche degli incantesimi Ma voi siete matti nel cervello Ok però ragazzi Ok però ragazzi Ok no 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 non abbiamo incantesimi Molto bene Partiamo subito col piede giusto Perché qua abbiamo un sacco di robe strane Io prendo roba a caso Ve lo dico eh Abbiamo ora il forest guardian Cosa sei amico Ciao Sei il guardiano della foresta Quindi a quanto pare ragazzi Abbiamo sia mob buoni Che mob cattivi Per dirvi Questo a me sembra super buono Però Proviamo a colpirlo almeno una volta Ok E Sciotta Ragazzi mi ha sciolto in due Questo è matto No scusami bro Non volevo farti del male Forest guardi Allora ti lascio lì Ce l'hai ancora con me? Ce l'hai ancora con me? Sì Sembra che tu ce l'abbia ancora con me Ti prego lasciami perdere Perché ho altri otto mob da sfidare amico Ti prego Ma invi Ragazzi è invincibile Bro Amico Non è che posso fare il giro Giro tondo Casca il mondo Casca la terra Cascano tutti i guardian per terra Ok Meno male che ha fatto una brutta fine Ma Abbiamo scoperto che era sì buono Ma di non farlo arrabbiare Perché era Bello che cattivello ragazzi Da arrabbiato Ottimo Vediamo cosa sarà il prossimo Abbiamo questo Ma perché sto guardando solo questo lato? Ne abbiamo un po' anche di qua Tipo questo È lo Scorched Creeper Ok Quindi è il primo Creeper che andremo ad analizzare oggi No bro bro calmati Ti ho spawnato lontano Ma di cosa sei fatto? Di sabbia? Oh Neanche il tempo di caricarsi Cioè mi ha visto Ha fatto Ok Va bene Scusami Creeper Non volevo farti fare in questo modo Però mi sei stato anche Mi hai griffato tutta la mappa Signor Creeper Vabbè Lasciamolo perdere Allora vediamo questo cos'è Abbiamo un Petrified Warrior Che è uno scheletro Con un'armatura di pietra E chainmail Ma che ha una spada al posto di un arco Vediamo quanto danno serve per farlo fuori A parte che mi ha preso a spadate ragazzi Sto dannato stifoso Vieni qua Ok non è durato più di tanto In realtà prima col Creeper Volevo provare a vedere Quanto in effetti resistesse Agli attacchi E lui da buon amico simpatico Ha preso E proprio ha fatto Subito E esploso subito ragazzi Scusatemi non volevo Allora andiamo col druide ragazzi Il druide Vediamo un attimino Cosa c'ha il nostro amico da presen... Oh la la buongiorno Ma cosa sei? Ehi amico No 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 Bro no no Dai datti una calmata amico Non ti ho fatto niente È una specie di persona incappucciata Che ci vuole del male Ma ha anche delle parcelli di fuoco Qua sotto Ok Sembra che però perseguiti le persone vive Perché a me... No sta prendendo fuoco Cosa sta... No ragazzi fa anche gli incantesimi Fermi 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 Fai un incantesimo amico Perché a lui credo che... Stia per evocare qualcosa Amico? Ehi? Io... Secondo me sono un po' una persona... Ma se li summoniamo qua un villager Vediamo se li insegue Summon villager Vediamo se ce l'ha anche con lui Vediamo se... Allora io me ne voglio andare bro Lasciami perdere per favore Vediamo se ti arrabbi... Ma perché non ti arrabbi col villager Ma solo con me? Vabbè allora facciamolo fuori Visto che è invincibile Ragazzi Il druide... Ecco perché ce l'ha con me Perché è invincibile Aia! No ragazzi Se muoio prima io del village Del druide impazzisco eh Oh Oh! Ma mi è uscito anche un enchant? No cosa è uscito? Ah un achievement Scusatemi Beh Interessante 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 questo druide Me lo aspettavo giusto un penino un po' più forte eh Però proseguiamo Qua abbiamo una ombra E qua abbiamo un surfaced Prendiamole entrambi questi qua Vediamo assieme Tanto li stiamo analizzando tutti quanti uno per uno Allora abbiamo Un altro druide? No è un'ombra? Cioè è simile al druide? Però Sembra Ragazzi Che poi questo qua per esempio Se noi mettiamo Se noi mettessimo qua buio In questo momento Questo qua ragazzi Non lo vedi neanche a pian Cioè lo vedi Perché sei tanto attento E noi vediamo tutto quanto al buio Però questo è super mega pericoloso ragazzi Perché All'interno di una foresta Questo Col cavolo Dove è andato? È morto? Col cavolo che lo vedete questo in mezzo a una foresta ragazzi Diciamo che queste uova acqua di spawn Sono molto carine Per fare come sempre qualche scherzo ai propri amici eh Poi abbiamo il surfaced che è È uno zombie di terriccio Ma è bellissimo raga È uno zombie che è stato modificato Cioè è modificato in generale Bello E mi ha droppato la muddy flash Quindi Ah è perché era fatto di fango Quindi è uno zombie che è praticamente Prettamente fatto solo di fango Beh carina come idea ragazzi Molto carina Ci sta Ci può stare Qua cosa abbiamo? Vieni qua Allora Wandering spirit Ah è simile Ma ragazzi ma quanto sono belli questi fantasmi Sono tutti quanti i fantasmi super belli Che fanno Oh questo fa un sacco di danno ragazzi Ma il bello di questo È che è invisibile Cioè vedi cosa c'è attraverso di lui Ragazzi è il primo mob Che io vedo con questo effetto di invisibilità È proprio bello Attualmente per ora questo rimane uno Dei più belli Se non è il più bello a livello estetico Che abbiamo visto Ma poi fa un sacco di danno Però In effetti ragazzi Secondo me Ha proprio poca 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 vita Questo mob eh Perché con tre spadate L'abbiamo fatto fuori E per ora Nessuno ha fatto fuori Il buon demarche senza armatura eh Dobbiamo sottolineare anche questa cosa Abbiamo un miscal Che Vediamo un attimino cosa ci può tirare fuori questo mob Cos'è Allora eccolo qua È un mob Cosa È uno scheletro È un wither scheletro Nate teste Aiuto Cos'ha Ehm Bro Ma mi ha tolto metà vita Ma tu sei matto Con uno scettro in mano Ma cos'è raga Aiuto Ma ragazzi Questo di No c'è un cuore No no bro No 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 Voglio rimanere in vita Forever and ever In questo video eh Non farmi del male Ehi No 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 Con un colpo questo mi fa fuori ragazzi Questo con un colpo mi secca Aiuto vieni qua Ok Ragazzi era il più bello No non era più bello O forse sì Non lo so Era bellissimo però Stiamo vedendo dei mob che sono clamorosi Siamo arrivati all'ultimo Che è lo stone golem Dopo l'iron golem Abbiamo lo stone golem Mmm Interessante Ok proviamolo assieme Allora Signor stone golem Ciao No 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 Ma a parte che ragazzi In realtà siamo morti in questo video Che sto dicendo Siamo morti per colpa di Di Del Del guardian Ma questo qua è un mostro Ma basta Shottarmi Ma poi perché sono Widerato ragazzi Ma Ma perché Shottano Ma questo qua Sei rintonato in casa Perché ha paura Sto Sto villager Fifone Vieni qua Dove sei Snow golem No no Stone golem Vieni qua Ma tu Secondo me C'hai tanta di quella vita Che siamo qua E altro che 8 minuti di video 10 minuti di video Qua ne facciamo 25 Solo per farti fuori E fare il giro Il giro Attorno a te Vieni Bro Ti prego Ma poi è bellissimo raga Perché hai fatto anche con gli ore E anche con l'andesite Con la stone È proprio bello Il modello del mob Eeeh Fa pure le piro Ragazzi Se avete bisogno di un ballerino Abbiamo uno stone golem Solo per voi A partire da oggi Finisce domani la promozione Però Ragazzi Spero che questo video qua di Minecraft Vi sia piaciuto Abbiamo visto Un sacco di mob Super rari Che voi sicuramente Non avrete mai visto in Minecraft Quindi Scrivetemi qua sotto nei commenti Quale è il vostro mob preferito Mi raccomando Iscrivetevi col tastiero Su qua sotto Attivate la campanella Su tutte quante Le notifiche E da Marche è tutto ragazzi Ciao ciao